A questo punto mi avete messo proprio in croce perché le cose dette sui miei sono così belle che fanno vedere crede a quanto detto non sarà facile, non sarà semplice. Comunque io voglio iniziare con dire altre cose, intanto perché mi sono candidato è stato già detto sia da Susanna che da loro due, io sostanzialmente mi sono candidato perché sono stato scritto a questo da molti amici, da molti ragazzi e ho accettato, in verità ho accettato proprio all'ultimistante, questa storia l'ho raccontata già in altre occasioni ma ho accettato perché proprio mentre tornavo a casa, un paio dei cittadini mi hanno proprio fermato, tra l'altro uno che già è un annetto ma insomma è una cosa vera, anzi sembra un annetto una cosa vera, ti ricordi Paolo che in circondizia a un certo momento è per il boom, un signore che mi ha detto ti denuncio, però è sempre quello, però è sempre vero, no 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 è tanto questo Dico ma perché è meglio lui, perché è per il sassassato, io, dice sì, l'altra sera ero per il viale una macchina sollevava un sasso, passandolo normalmente in mezzo alle cuglie del viale e mi ha preso sulla spazio, la spazio è rassurato, ha pensato subito a te e al fatto che il viale non è stato flesso appunto questa persona appunto venerdì nell'altra settimana probabilmente si ha ottenuto a casa sostanzialmente con una certa serie di ragionamenti ma convinto, ma grado che dieci giorni prima mi avessi in qualche modo forse anche giustamente preso di mira la mia idea di comune è l'idea di cui evidentemente l'obiettivo principale è il bene del cittadino è retorica questa, naturalmente è difficile dire il contrario, però ci credo profondamente ci credo profondamente e credo che nel momento in cui noi riuscissimo e spero proprio di riuscirci a costruire una giunta capace, libera, libera da legami e dettata nel suo lavoro dalla passione probabilmente riusciremo a ottenere il bene del cittadino e il bene della città è chiaro che per fare ogni cosa bisogna fare un'analisi del deciso della situazione bisogna cercare di analizzare, cercare di poi decidere, decidere anche abbastanza in fretta proprio perché abbiamo una situazione piuttosto brutta sia da un punto di vista economico-finanziario sia da un punto di vista sociale e quindi è chiaro che bisogna agire e agire in fretta grazie